Buongiorno e ben ritrovati Dalla redazione del TG60 Per questa nostra edicola del mattino Cominciamo insieme la giornata Giovedì 2 marzo 2017 Sfogliando insieme i quotidiani usciti questa mattina Nelle edicole Dando un po' un'occhiata anche a ciò che sta succedendo In Italia e nel mondo Grazie ai quotidiani delle principali testate online E alle notizie Poi invece a livello locale Che arrivano dalla nostra redazione Per aggiornamenti puntuali su ciò che sta accadendo Nei nostri territori In Toscana, in primo luogo Nella provincia di Pistoia Apriamo proprio questo nostro spazio del mattino Con una notizia che si riferisce Ad un incidente avvenuto Nella serata di ieri Di mercoledì Ad Olmi di Quarrada Fortunatamente un incidente che sembra Non ha avuto particolari Conseguenze, una persona comunque Ha subito delle ferite Si tratta di un pedone Che è stato urtato Da una vettura Come detto In località Olmi di Quarrada Sul posto È intervenuta L'automedica di Pistoia Con la croce rossa Il paziente Che è un uomo di 75 anni Ha portato Riportato Lesioni lievi Ed è poi dopo stato portato In ospedale Questo è un doveroso aggiornamento Cerca questo episodio di cronaca Che non abbiamo avuto modo di proporvi Anche per ragioni di tempi Nelle edizioni Del nostro telegiornale Vi ricordo come sempre L'edizione principale della sera È alle 20 e 15 Poi in notturna Tra le 11 e le 11 e 30 Il nostro telegiornale Con le ultime della giornata Andiamo subito dunque Ai quotidiani Vediamo Questa mattina Iniziamo con il terreno Dove sono tanti i temi All'ordine del giorno In taglio alto Una notizia ormai Sta prendendo ampio spazio Su tutti quanti i quotidiani Non solo per Gli aspetti giudiziari Della vicenda L'inchiesta in corso Ma anche Per tutte le possibili Ripercussioni Politiche Che questa potrebbe avere Lo scandalo L'appalto Consip Che è la principale struttura Per gli appalti Della pubblica amministrazione Vediamo subito In taglio alto Coinvolti anche Lotti Ed il padre di Renzi Appalti truccati Arrestato un imprenditore La politica Trema Questo il titolo Un po' più neutro Mentre vediamo Già sulla nazione Il taglio è molto più politico Il resto che scuote Renzi Con una fotografia Appunto Di uno dei protagonisti Di questa vicenda Ma vedremo tra poco Mentre La notizia principale Purtroppo Ne abbiamo parlato Anche noi I nostri notiziari Anzi Vi ricordo Come sempre Se volete Un aggiornamento Oltre Che le nostre pagine Facebook Dove ci sono Tutte quante le ultime Sul fronte della cronaca Vi ricordo anche Le pagine di Sport TVL Vi ricordo Questa mattina È in replica Il nostro notizio in corso Con i principali servizi Della precedente edizione Del nostro telegiornale Diciamo Ne avevamo parlato anche noi Purtroppo La tragedia è avvenuta Ad Agliana Dove una donna È morta Nell'incendio Della propria casa Muore nel letto in fiamme Agliana La vittima Aveva 92 anni La badante Riesce A salvarsi La cronaca Purtroppo Trova spazio Anche per un altro incidente Fortunatamente questo Con esiti Non così gravi Solo danni materiali Per L'appartamento Coinvolto Un incidente Un incendio Anche questo Nei nostri notiziari Il rogo nell'attico A Pistoia È avvenuto Salvo il cane L'evacuazione Per sei famiglie Dello stabile Che è stato interessato A questo incendio Mentre a Montecatini Come sempre Ne abbiamo parlato Anche in questo caso Nei nostri notiziari L'operazione dei carabinieri Che ha permesso Di Identificare Ed arrestare Tre delle quattro persone Accusate di essere coinvolte Nella rapina Ai danni Di una coppia Di Uzzano Rapina Tentata rapina Mi correggo Nei confronti Di una coppia Di Uzzano Avvenuta Ad inizio febbraio Finiscono I manetti A Napoli Tre pendolari Delle rapine Per quanto riguarda La cronaca pratese C'è sempre spazio Anche qui In prima pagina Come sempre Tra le notizie Il caso Di cani antidroga Fatti salire Per un controllo Su di un bus Di una gita scolastica Cani antidroga Della polizia Municipale Di Prato E L'esito è stato Che non è stato trovato Alcuno stupefacente Però questo ha creato Anche un caso Mentre In taglio basso Si dà spazio Ad una vicenda Anch'essa che sta facendo Molto discutere Nella cronaca nazionale Su un tema Molto caldo In questo momento Accanto a quello Del fine vita Quello Dell'interruzione Di gravidanza Aborto Respinta da 23 ospedali Obiezioni di coscienza E burocrazia La donna Di Padova Ha abortito Poi alla fine Dopo un intervento Della CGL Notizia che trova spazio Un po' su tutti quanti Quotidiani Il Tirreno Sceglie di metterla In prima pagina E apriamo dunque Sull'inchiesta Del Consip E anche Delle conseguenze Che questa sta avendo Sulla politica Nazionale Vediamo subito Il titolo principale Appalti con Il trucco Imprenditore In cella Alfredo Romeo Accusato di corruzione Per i cantieri pubblici Della società Indagati L'ex governatore Caldoro L'ex parlamentare D.N. Bocchino Protagonisti Di questa vicenda Tra gli altri Il padre Il padre Dell'ex presidente Del consiglio Tiziano Renzi Il ministro Luca Lotti Ed altri Ed a proposito Tiziano Renzi Si discolpa Lo vediamo qui In taglio basso In un approfondimento Non ho mai preso Dei soldi Ma andiamo a vedere Un po' più In dettaglio Di che cosa si tratta Leggendo l'inizio Del pezzo Firmato Da Fiammetta Cupellaro Appalti pubblici Per milioni di euro In cambio Di tangenti Soldi Ma anche Su giorni In hotella 5 stelle Ieri Alfredo Romeo 64 anni Imprenditore Partenopeo Che ha costruito Un impero Sugli appalti pubblici E' finito in manette E' L'uomo Che dalla sua Villa a Posillipo Ha gestito Per anni Cantieri aperti Al Quirinale A Palazzo Chigi Nei tribunali Negli aeroporti Di Linate Malpensa Da ieri A Regina Celi L'accusa E' corruzione E l'inchiesta E' quella Che vede Al centro La Consip La società Del Ministero Dell'Economia Che gestisce I più grandi Appalti pubblici Dunque Questo Il centro Di una vicenda Che sta facendo Molto discutere E Restando Nell'alveo Del Partito Democratico Alcuni esponenti Del PD Sono coinvolti In questa vicenda L'altro caos Che sta investendo E non è una novità A dire la verità Il Partito Democratico E' il caso Che è scoppiato In Campania Per quanto riguarda Le iscrizioni Al Partito Democratico Questo è stato messo In luce Da un video Di Repubblica Del quotidiano Repubblica Che ha raccolto Delle dichiarazioni Di persone fuori Da un circolo Proprio In occasione Della sottoscrizione Dell'iscrizione Al Partito Democratico In un circolo E che Invece tessere Che sarebbero state Ottenute Da un Diciamo sì Il finanziamento Di alcune persone Non con soldi Dati spontaneamente Dai cittadini E quindi Il Partito Democratico Ha deciso Di mandare Il deputato Emanuele Fiano Lo vediamo qui Nella fotografia Per cercare Di verificare E capire Di che cosa Si tratta Mentre Il segretario regionale Che è assunta Tartaglione Ha annunciato Che il circolo Del PD Di Miano Che era il centro Di questa vicenda Sarà affidato Ad un commissario L'ex senatrice Graziella Pagano Che qui vediamo Nella fotografia Il caso Di Miano Però non è Il solo A Castellammare Di Stabia Sempre Nella provincia Di Napoli Oltre 100 tessere Sono state Acquistate Online Con il pagamento Di un'unica Da un'unica Carta di credito Quindi con un unico Pagamento Per Oltre 100 iscritti Cosa che è Proibita All'interno Del Partito Democratico Poi a Bagnoli È stato registrato Ad un boom Un boom sospetto Di iscrizioni Da 200 A 500 Dunque questo Alla vigilia Anche di un congresso Che Diciamo così Si annuncia Importante Decisivo Per il futuro Del partito Fa molto discutere Ma comunque Lo stesso partito Come abbiamo detto Ci vuole vedere Chiaro L'altra questione Accanto al caso Quello dell'interruzione Di gravidanza Abbiamo visto In prima pagina Naturalmente È quello che riguarda Il fine vita Con l'esponente radicale Cappato Che si era Autodenunciato Dopo aver accompagnato Il DJ Fabo Su ultimi momenti di vita Alla morte Bene Cappato Ora è indagato Sono pronto A rifarlo Ha detto Tutto questo Con la legge Sul fine vita Che sarebbe dovuta Essere discussa Il 6 In Parlamento Il DDL Che invece slitta Slitta Al 13 Di marzo Per l'esponente Radicale Si legge Nel pezzo Sul tirreno Affirmato Della Maria Rosa Tomasello Per l'esponente Radicale Che aspetta Ora di essere Convocato In procura La decisione Di posticipare Ancora L'arrivo In aula Del DDL Sul testamento Biologico Dimostra Che in queste condizioni Di mancanza Di volontà politica Tutte le scadenze Sono scritte Sulla sabbia Questo è il commento Dell'esponente Radicale Dalla cronaca Nazionale A quella Internazionale Con l'attenzione In queste ore Tutta puntata Su due fronti Gli Stati Uniti E l'Inghilterra Stati Uniti Dove Trump Ha tenuto Il suo primo Con discorso Al congresso Un discorso Che Che è stato Dai toni Molto più Morbidi Rispetto A quelle Alle dichiarazioni Delle scorse Settimane Un discorso Che si è tenuto A circa un mese Dalla sua elezione Alla Casa Bianca Tanto da far titolare Il tirreno Ma non solo E far parlare Di una svolta Soft Di Trump Quindi rinviato Il bando Sui migranti Che aveva fatto Tanto discutere Anche sul fronte giudiziario Apprezzato Il primo discorso Del presidente Che al congresso Ha moderato i toni Non cambiano però I piani Del Tycoon Sul lavoro La difesa La sanità E la sicurezza Interna E leggiamo appunto Un passaggio Di questo pezzo Di Andrea Visconti Trump ha ribadito Le scelte politiche Di cui aveva parlato In campagna elettorale E che dal 20 gennaio Ha cominciato Ad attuare Con una serie Di ordini esecutivi In certi casi Tuttavia Ha smorzato il tono Ha espresso ad esempio L'appoggio Per gli schieramenti Nato Insistendo però Sulla necessità Che i paesi Membri rispettino I loro obblighi Finanziari I soldi Hanno già Cominciato ad entrare A fiumi Ha ironizzato Era infatti Questa una delle questioni Quella della compartecipazione Delle spese Che sin dalla campagna Elettorale per la Casa Bianca Era stato al centro Di questo particolare Dossier Di Trump Dunque L'eguale distribuzione Dei finanziamenti Per le missioni Della Nato Mi correggo Non Inghilterra Ma bensì Francia E la situazione Che vede al centro Il candidato Repubblicano Fion Fion nella bufera Ma io vado avanti Ieri c'è stata infatti L'attesa Uscita Delle stese Dichiarazioni Del candidato Dei Republican Che lo ricordiamo È stato un po' Travolto Da uno scandalo Quello Soprannominato Penelope Gate Penelope è il nome Della moglie Che sarebbe stata Assunta In maniera fittizia Per degli Incarichi Fion dovrà Comparire Davanti ai giudici In vista Delle iscrizioni Al registro Degli indagati Il 15 marzo E lo stesso vale Per la moglie Lui comunque Ha deciso Di andare avanti E l'ha detto Non cederò Non mi arrenderò Non mi ritirerò Andrò fino in fondo Perché al di là Della mia persona Ora È Sfilata È sfidata La democrazia Ha Detto E dunque Sulla Francia Che è uno dei primi paesi Che interessati Da un Voto Importante C'è sempre più Incertezza Su quelli che poi Saranno i due candidati Che si troveranno Davanti Al Ballottaggio E quindi Diciamo così C'è una profonda Incertezza Anche per quanto riguarda La Francia L'altra questione Invece Che sta trovando Ampio spazio Sui Quotidiani È La decisione Dell'irlandese Mary Collins Di Uscire Dalla commissione speciale Voluta da Papa Francesco Per quanto riguarda Gli Abusi Di Preti Clero E pedofilia La Collins Lascia l'incarico Che è accusato Ostacoli Costanti Vaticano Bufera Sulla congregazione Per la dottrina Della fede Che poi L'ex Santo Uffizio La Collins Ha detto Vanificati Gli sforzi Della commissione Di tutela Dei minori Non si tratta Dire la verità Della prima dimissione In seno A questa commissione A febbraio Un'altra Persona Si era dimessa Si tratta Di Peter Sanders Entrambi Sanders E Collins Sono due Oggi adulti Che però Da bambini Hanno subito Degli Abusi E La Collins Ha parlato Di una vergognosa Mancanza Di collaborazione Da parte Del digastero Coinvolto Più da vicino Nell'affrontare I casi Di abusi E dunque Lei ha lamentato Una scarsa Collaborazione Mancanza Di collaborazione Correggo Sono state Le sue parole L'economia Ha soltanto Un titolo Perché ci sono Diciamo così Una Notizia Positiva Anche se Quando si parla Di numeri E di economia Ormai tutto Va preso Per Con le molle Si parla Di una crescita Sempre molto ridotta Ma comunque Pur sempre Una a crescita L'Italia Cresce lentamente Ecco qui Il titolo Inquadrato Un pochino meglio Con il PIL Secondo l'Istat A più 0,9% La pressione fiscale Scende al 42,9% Con il ministro Padoan Che però ha detto Adesso servono Delle riforme Allora Sfogliamo Insieme E prima di Tuffarci Nella cronaca Locale Una veloce Scorsa Sulla prima pagina Della nazione Dove i titoli E i temi Fondamentalmente Sono gli stessi Che si rincorrono Rispetto a quanto Abbiamo appena visto Sul Tirreno Per questo Alla fine Vedremo Soltanto Veramente Molto poco Questa mattina Sulla nazione In taglio alto La cronaca Locale Come sempre Muore Bruciata Dalla coperta La vicenda Di Agliana Mentre Dalla Valdinevole L'arresto Dei componenti Di questa banda Di rapinatori Che avevano tentato Di rubare Dero Che sia una coppia Di Uzzano La fotografia principale Il caso Consip Mentre Di spalla Di spalla Pd Soldi Iscrizioni Scoppia Lo scandalo Tessere Comprate Questa La prima pagina Della Della nazione Dove appunto Si affrontano Più o meno Tutti quanti i temi Che abbiamo Già visto Uno che invece Non si ritrova Sul tirreno Riguarda O almeno Non in questi termini È dedicata Quasi una pagina Intera Riguarda L'iniziativa Della commissione Parlamentare Antimafia Che è diretta Da Rosi Bindi L'antimafia Sequestra Le liste Dei massoni Intervenga La finanza Nel mirino Le loge Di Sicilia E Calabria Dicevamo E leggiamo L'inizio del pezzo Di Elena Polidori La commissione parlamentare Antimafia Ha deciso Di sequestrare L'elenche Gli iscritti Dal 90 Ad oggi Delle leggi Massoniche Di Calabria Sicilia Nell'ambito Dell'inchiesta Sui rapporti Tra mafia E massoneria E dunque Anche da qui Potrebbe aprirsi Un nuovo filone Per aprire Diciamo così Ottenere dei chiarimenti Su questo Possibile Rapporto Staremo a vedere Spazio Non lo approfondiamo Ma insomma Si avvicina L'8 marzo E quindi Ampio spazio Sulla Sulle croniche Dei giornali Online E cartacei Sulla festa Della donna Si parla Purtroppo Si torna a parlare Di casi Di femminicidio Di violenza Nei confronti Delle donne Ma si parla anche Di donne Che reagiscono Ad esempio Come fa Sulla nazione Sulla difesa Personale Per difendersi Da Situazioni Che possono essere Molto spiacevoli Se non Molto gravi Allora Andiamo a vedere Adesso Sulla cronaca Locale Il Tirreno Dunque Che Dà ampio spazio Alla tragedia Di Agliana Incendio In casa Muore Un'anziana Salvata La badante Probabile Malfunzionamento Della coperta O elettrica All'origine Del rogo Di via Sparta Lago Lavagnini Nelle fotografie Tremende Immagini Della casa Semidistrutta Dall'incendio Dove appunto E' morta Una donna Per Questo rogo La donna Era bloccata Sul Su un lettino Dormiva Al piano Terreno Al piano Superiore Invece C'era La sua Badante Che si è salvata Lo si vede qui Anche da una Fotografia Si è salvata Riuscendo a calarsi Dal terrazzino Del primo piano Sino a terra E' stata aiutata Da persone Di passaggio E si è salvata Le fiamme Uniscono Idealmente Con un altro episodio Avvenuto invece A Pistoia Non lontano Dalla stazione ferroviaria Via Cavallotti Dove c'è stato Un incendio In una palazzina E dove Un cane E' stato letteralmente Salvato Intrappolato dal fuoco Come scrive Il Tirreno E' stato salvato Dall'intervento Dei vigili Del fuoco Paura Per un attico In fiamme Evacuati Con l'autoscala Due donne E un neonato Sei famiglie Rimaste Senza Casa L'incendio Si è sviluppato Intorno alle 10 e mezza E a dare l'allarme Sono stati alcuni vicini Che hanno visto Il fumo Provenire Dall'appartamento Su fronte del turismo Ne abbiamo parlato anche noi Nel nostro notiziario di ieri C'è un'iniziativa interessante Che unisce Pistoia e Montecatini Nel segno della cultura Ecco qui il titolo A Montecatini I turisti di Pistoia Capitale Accordo tra gli albergatori termali E il consorzio turistico Per creare pacchetti integrati Da offrire ai visitatori In arrivo Ieri la presentazione Alla sede Di Commercio Si parla di elezioni Lo anticipa Il Tirreno Qui in taglio basso Della sua pagina 3 Di Cronaca Locale Verso le elezioni Il centrodestra Dunque ha scelto il suo candidato E' Tomasi Alessandro Dunque Tomasi Sarà il candidato Sabato La presentazione ufficiale Con lui Il sostegno di Forza Italia Fratelli d'Italia E Lega Nord E dunque Si va Definendo Un pezzo dopo pezzo Quello che può essere Lo schieramento Di coloro Che si Metteranno Diciamo così Saranno in lista Candidati Contro Il sindaco uscente Samuele Bertinelli La cronaca Dalla Valdinevole Abbiamo ampiamente Parlato Si dà doverosamente Spazio Nella prima pagina Del Tirreno Pendolari Del Rapini Arrestati A Napoli Avevano seguito Una coppia Di Uzzano Dall'uscita Di un ristorante Per rubarli Dagli Degli orologi Ma il colpo fallì Per la loro Reazione La loro La coppia Era stata fermata Dopo essere stata seguita Fino a casa E' stata fermata Fuori In macchina C'erano i due bambini Piccoli Della coppia L'uomo E' stato picchiato E' malmenato Anche con un calcio Di una pistola Le loro urla Però Di marito E moglie Hanno attirato I vicini Che Il cui arrivo Ha fatto Fuggire I rapinatori Dunque Non si è Consumato Completamente Il crimine E Oggi Finalmente Grazie all'operazione Dei carabinieri Congiuntamente Con i colleghi Di Napoli L'arresto Dei tre Ed è caccia Ad un quarto Uomo A Monzummano Si fa Il punto Sull'assistenza Al sociale Le fasce deboli Ed il comune Spende Un milione Di euro Per il settore Del sociale Il vice sindaco Buccellato Traccia un bilancio Delle attività svolte Tra le nuove iniziative Anche l'apertura Dell'emporio Solidare Dunque Un'iniziativa Un'iniziativa Importante Per quanto riguarda Il comune Val di Nevolino Andiamo a vedere Il La Nazione Ecco qui Con Le notizie scelte Per la prima pagina Con un momento In taglio alto Arrestata La banda Dei Rolex Minacciò la famiglia Con la pistola La morte Ad Aliana E l'incendio Di Pistoia Queste sono Le principali Notizie Che appunto Ritroviamo C'è da però Dare un aggiornamento Ovvero Ciò che sta Succedendo Ormai Da diversi giorni Alla stazione Ferroviaria Di Pistoia C'è da registrare Un altro Episodio Di violenza Non ha coinvolto Persone Fortunatamente Alla stazione È stato spaccato Il vetro Dell'ufficio Della Polfer A averlo compiuto Questo gesto È stato Un uomo Che è stato poi Dopo sottoposto A un trattamento Sanitario Obbligatorio Sta di fatto Che comunque La situazione Alla stazione Ferroviaria Sta diventando Sempre più difficile Per ormai La serie Di episodi Di cronaca Complessi E difficili Da gestire Che si stanno Verificando E Nei giorni scorsi C'erano state Appunto Anche tra l'altro Le sindacate di polizia Che avevano Sottolineato Il bisogno Di più uomini Per un servizio Di sicurezza Nella stazione Di Pistoia E non solo Perché il personale Si muove anche Sui treni Personale Che è soltanto Di otto uomini Che devono lavorare Per tutto quanto L'anno 365 giorni A Montale Arriva il discorario E la ZTL Rivoluzione Del traffico Alla stazione Se ne parla Con un pezzo Affirmato Da Giacomo Bini Mentre andando In montagna Si dà conto Della novicata Che c'è stata In Val di Luce Ma nevicata Che è stata Diciamo così Non soltanto Positiva Per quello Che vuol dire La neve in montagna Braccio di ferro Sulla spalatura Il comune Non pulisce Gli ultimi metri Di strada Perché sono privati E dunque Non manca Non manca La discussione Su quanto Accaduto Allora Andiamo velocemente A Vedere La Val di Nievole La Val di Nievole Appunto Con la notizia Degli arresti Della banda Dei rapinatori Dei Rolex Mentre Sul fronte Del raddoppio Della ferrovia Interviene Nella Fittacisl Chi chiede Di risolvere Immediatamente Il problema Del cosiddetto Congelamento Del raddoppio Nella tratta Montecatini-Pescia Raddoppio Arraso Subito In città E la richiesta Del sindacato Non ad altri progetti Il segretario Tostancano Stefano Boni Teme Sia panelizzata L'area lucchese Perché sostanzialmente Quello che viene detto Dal sindacato Si arriverebbe A una sorta di imbuto Arrivando da Lucca A Pescia Imbuto Fino a Montecatini Dove poi Ritornerà a doppio Che dove è stato fatto Grazie al gruppo parrocchiare Di Castelvecchio Valeriana Un'iniziativa Per valorizzare Recuperare Un antico dipinto Un puzzle Per salvare un dipinto Tessere messa in vendita A 10 euro A Castelvecchio Un gruppo parrocchiare Cerca così I fondi Per un restauro E dunque Una davvero bella iniziativa Di cui fa piacere Dare notizia Doverosamente In chiusura Per la pagina locale Ciò che è scaduto In casa Della Pistoiese Dove Salta Remondina Come titolo Una nazione La squadra Affidata ad Azzori L'avvicinamento Proprio nella settimana Della sfida Contro la capolista Alessandria E questo Anche soltanto Come titolo Noi ce ne siamo occupato Nei nostri notiziari sportivi Ma insomma Doverosamente Ne diamo notizia Anche in questo Nostro spazio Andiamo a vedere velocemente Prima di congedarci Anche perché come sempre I minuti Volano Per questo nostro spazio Del mattino Andiamo a vedere velocemente Quali sono le principali notizie Portate sui Quotidiani nazionali Online Cominciamo con il Corriere della Sera Dove Come detto A parte Le vicende Le questioni Legate al tema Delle violenze Sulle donne O altro Ampio spazio È dato Alla vicenda Consip Con Il primo luogo Il coinvolgimento Di Diziano Renzi Che scrive Il Corriere della Sera Nel titolo Si faceva promettere soldi Per la mediazione I sospetti Dei renziani Però è un accerchiamento Mentre Si dà spazio Una notizia Delle ultime ore L'ex coppia D'oro americano Barack Obama E Michelle Contratto per loro Contratto da star Un libro Per un libro Oltre 60 milioni Di dollari Per le loro Le memorie Dell'ex presidente Della first lady Naturalmente In chiesta Consip Ampio spazio Anche su Oddio Questa non c'entra niente Anche su Repubblica Che proprio in questo istante Ha cambiato La prima pagina E si dà invece Spazio Alla vicenda Delle dimissioni Della Collins Della commissione Sulla Sulla pedofilia Nella chiesa La vicenda Di Orlando E delle tessere Del PD Sono Tra i temi Centrali L'altra notizia Invece che interessa Agli esteri Interessa molto Gli italiani In primo luogo Quelli che vivono E lavorano In Gran Bretagna Riguarda La sconfitta La prima sconfitta Dopo Brexit Di Teresa May Perché Il governo Con un emendamento È stato sconfitto La Camera dei Lord Con un emendamento Che tutela I cittadini europei Che vivono E lavorano In Gran Bretagna C'è da dire Che però Questa Tra virgolette Vittoria Anti Brexit Nel Parlamento Nella Camera dei Lord Non condizionerà Molto Diciamo così Il futuro Dei lavoratori Europei In In Inghilterra In quanto Il provvedimento Deve tornare Nell'altro ramo Del Parlamento Che è poi Quello che è Deputato Alle scelte L'unica vera Conseguenza Sono degli allungamenti Nei tempi Per l'avvio Reale Della procedura Di uscita Della Gran Bretagna Dall'Unione Europea Che a questo punto Si dilateranno Non rispettando La tabella di marcia Che Teresa May Si era Si era data Vediamo velocemente La stampa Che fa un po' Il punto Parlando Da interruzione Di gravidanza A fine vita Quali sono Ecco qui Hanno cambiato Anche loro La notizia Comunque si parlava Di quali sono Le leggi Ancora fermi In Parlamento E che aspettano Una risposta In qualche modo Sono temi Che abbiamo già visto Spogliando insieme Le le pagine Dei giornali La stampa In questo istante Sta dando invece Come prima notizia Negli Stati Uniti Un'altra tegola Che sta Arrivata Sul presidente Trump Ovvero Che anche Il capo Della giustizia Ammendio Il ministero Della giustizia Americano Ha avuto Un incontro segreto Con l'ambasciatore russo Durante la campagna Elettorale E dunque E dunque La situazione Per Trump Non Non si Non si complica Non si Semplifica L'altra questione Che Ce ne siamo occupati In maniera indiretta Per quanto riguarda La questione Il problema Del gioco d'azzardo Soprattutto Per i giovani Diciamo così L'altra faccia Della medaglia Ne parla La stampa Ma insomma Anche una notizia Che si ritrova Anche su altri Quotidiani E' quello che In questo momento I grandi casino Stanno avendo Seria difficoltà Perché Il gioco d'azzardo Online Come cita La stampa Lo vediamo qui nel titolo Fa saltare il banco E dunque Sta letteralmente Cambiando profondamente Il rapporto Tra i giocatori E il mondo Tradizionale Del gioco d'azzardo In virtù Non soltanto Ridicola Le 9.30 Puntuali Arrivederci Il mondo Un'unica Il mondo Il mondo Il mondo Il mondo Grazie a tutti.